La signora di venire a te la sanità, a colpire la gariccia di loro, e per la donazione di divertire, e per l'uomo che suda in un campo, e per la donna che soffre a tempo, 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 e per il momento che è la fine, a me poi è la prima idea, e per la donna che soffre a tempo, 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 Grazie a tutti.